Ok, ottimo. Ok, ottimo. Quanto un buon testo, due giorni di molti lapso e, direi, molti lapso. Testo molti materiali, da aereo a la bicicletta, elettronica. E' una buona informa da Andrea. E' un super bambino in termini di sensibilità e di capire la dinamica della bicicletta. E' un super bambino. 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 Un super bambino.